Un anno intenso e impegnativo, così il presidente Gianfranco Basterebbe ha descritto il 2019 per la Sasi S.p.A., società che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino. Si stanno chiudendo alcuni cantieri nel settore depurazione, sono in corso interventi per nuovi impianti e sono stati potenziati alcuni impianti esistenti. Il 2019 segna anche la fine di due complicate antiche vicende, quelle relative alla società del patrimonio, IsiSRL e il passaggio della gestione dei depuratori dall'Arap alla Sasi. Ma il primo problema per i 160.000 utenti Sasi sono le bollette recapitate in ritardo e già scadute. Risolto il contratto con l'operatore privato a gennaio per gli stessi problemi, adesso le bollette sono recapitate dalle poste italiane, ma anche nello scorso mese di novembre si sono registrati ritardi. Dalla Sasi assicurano la mora non sarà dovuta. Nel frattempo la Sasi sta approntando il servizio dell'avviso di bolletta per email su richiesta dell'utente. Per spiegare agli utenti la nuova articolazione tariffaria, la Sasi divulgherà due video tutorial che spiegano anche la corretta lettura della bolletta. Sul fronte depurazione basterebbe ricordato il nuovo impianto di Fossa Cesia che serve anche altri comuni realizzato in cofinanziamento. Qui la Sasi sta progettando anche un impianto di essiccamento dei fanghi per recuperare risorse sullo smaltimento. Questo per fare in modo di eliminare tutta una serie di piccoli depuratori che come costi di gestione stanno quasi come quelli grandi e come funzionamento non hanno tutte quelle caratteristiche che possiamo dare a questi depuratori e di nuova generazione e di una certa entità. Quindi sempre per migliorare l'aspetto ambientale abbiamo deciso di iniziare dove c'è possibile questo discorso, qua c'era questa possibilità e l'abbiamo effettuata. Sono 149 i depuratori gestiti dalla Sasi, di questi 76 saranno portati a completa efficienza con un investimento di 15 milioni di euro, mentre altri 5 milioni saranno destinati all'eliminazione delle numerose fosse IMOF. Il Presidente basterebbe anche sottolineato come la gestione di quest'anno, grazie anche ad un CDA coeso e compatto che condivide progetti e obiettivi, sta portando avanti alcune iniziative che testimoniano lo spirito innovativo e di crescita della società. Stipulato un rapporto di collaborazione con l'Università di Teramo, il primo passo consisterà nell'aderire con quattro giovani laureati aziendali al Master di secondo livello in diritto dell'energia e dell'ambiente. Alla conferenza stampa hanno preso parte i consiglieri del CDA Corrado Varrati e Maira Roberti, il direttore generale Giorgio Amarone, la dirigente del settore commerciale Manuela Carlucci.